Da marzo 2020 sono cambiati molteplici aspetti della nostra vita quotidiana personale e professionale. Quando tutto questo periodo sarà solo un ricordo, molte cose non saranno più le stesse e tra queste il nostro modo di comunicare on e off-line. Oggi parlare in pubblico non vuol dire solo salire su un palco dal vivo per parlare davanti ad una platea. Il palcoscenico del futuro già attuale è la nostra vita quotidiana, come comunichiamo, cosa comunichiamo, ma soprattutto a chi ci rivolgiamo in rete. Il palcoscenico è il blog, il webinar, il post, i social network, il cell broadcast, telegram e whatsapp, questo stesso video di presentazione. È indubbiamente cambiata la soglia di attenzione, i tempi e le modalità di interazione, se nonché lo stile di comunicazione. Parlare in pubblico quindi non vuol dire solo salire su un palco davanti ad una platea. Il palcoscenico del prossimo futuro già attuale è on e off-line. Un luogo dove tutti noi abbiamo l'obbligo morale di comunicare bene, a partire dalla nostra vita personale. Sono Gian Vito, artigiano di emozioni e trainer. Vi aspetto per condividere questi e tanti altri argomenti con parlare in pubblico, il palcoscenico e online. Un momento di crescita, di condivisione, da vivere tutti insieme per rimodellare in maniera estremamente efficace la comunicazione che si sviluppa anche sul palcoscenico della rete, davanti ad un monitor o un solo micro.